Mercoledì alle ore 21, Ugo Campagnaro incontrerà in esclusiva i tifosi nerazzurri. InterNOS, tra di noi, tra Nagaia Beccalossi e Roberto Monzani. Prova InterChan nella soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova InterChan e poi scegli Sky LiberiD.